Segui La Sette anche su Instagram. La Sette ovunque con te. Quello che abbiamo fatto a Milano è stato attivare insieme a Fondazione Cariplo dei progetti QB 25 milioni contro la povertà alimentare dei bambini 25 milioni di euro abbiamo attivato progetti per i giovani per cercare di reinserirli e l'abbiamo fatto con una regione che purtroppo non fa politica di questo tipo oggi serve dare una risposta a chi non va a scuola serve dare una risposta a chi non ha il pane e serve dare una risposta a chi non ha la casa istruzione casa pubblica e possibilità. di lavoro e su questo il partito democratico di Alice Lange si sbatterà. Io stavo alle superiori fino a ieri. Manco i bulli del mio quinto fanno così. Allora la risposta è questa.